In questo video parleremo degli organuli cellulari, i ribosomi, e del processo nel quale sono coinvolti, quindi la traduzione da un mRNA a una proteina. Infine vedremo alcuni quiz proposti ai test di ammissione e nelle simulazioni WOW. Prima di parlare della traduzione, bisogna avere ben chiaro la funzione e il ruolo dei ribosomi. I ribosomi sono dei piccoli organuli privi di membrana, che si trovano sia nelle cellule eucariote che in quelle procariote, con una differenza di dimensione. La loro funzione è intervenire nella sintesi proteica, si localizzano liberi all'interno del citosol, quando devono sintetizzare le proteine destinate a rimanere all'interno della cellula, oppure rimangono ancorati alle membrane del reticolo endoplasmatico, quando devono sintetizzare le proteine che invece devono essere esportate al di fuori della cellula. In realtà i ribosomi ancorati al reticolo sintetizzano anche le proteine destinate a rimanere o nel reticolo endoplasmatico o nell'apparato di Golgi. Visto che i ribosomi sono costituiti prevalentemente da rRNA e hanno una funzione catalitica, sono detti ribozimi. Per distinguere i ribosomi eucarioti dai ribosomi procarioti, si utilizza il coefficiente di sedimentazione, che si esprime in Svedberg. I ribosomi eucarioti hanno un coefficiente pari a 80 Svedberg, quelli procarioti invece pari a 70 Svedberg. C'è anche un terzo tipo di ribosomi, che sono quelli mitocondriali, ovvero mitoribosomi. Si trovano nella matrice mitocondriale e hanno un coefficiente pari a 55 Svedberg. I ribosomi sono formati da due subunità, una subunità maggiore e una minore. La subunità minore misura 40 Svedberg, quella maggiore 60 Svedberg, ovviamente parlando di quelli eucarioti. Le due subunità vengono sintetizzate all'interno del nucleo cellulare, in particolare nei nucleoli. I nucleoli si trovano in numero variabili all'interno del nucleo cellulare. Le due subunità vengono sintetizzate e escono dal nucleo ancora separate. Si uniscono solo nel momento in cui parte la traduzione. Le due subunità hanno due compiti distinti. La subunità minore deve individuare il sito di inizio della traduzione, che è solitamente un codone AUG. Per sapere qual è il codone di AUG, utilizza la sequenza di Kozak, negli eucarioti, o di Shine dal Garno, nei procarioti, cercandola all'interno dell'mRNA e localizzandola in corrispondenza di un codone AUG da cui iniziare. La subunità 60S, invece, quindi quella maggiore, deve catalizzare il processo di traduzione. Quando le subunità si uniscono, si formano tre siti fondamentali, che sono il sito A, il sito P e il sito E, che sono quelli che accolgono i tRNA che portano gli amminoacidi necessari a costruire poi la proteina. Il processo di traduzione inizia quindi con l'unione delle due subunità e la formazione dei tre siti, il sito A, P ed E. Il sito A, che viene detto anche il sito accettore, è il sito di ingresso del complesso amminoacido tRNA. Quindi il tRNA lega un amminoacido e si inserisce poi a livello del sito A del ribosoma. Il sito P, o peptidico, è quello che viene occupato dal peptide nascente, il sito E, o exit, e il sito di uscita dei tRNA una volta che sono scarichi. Quindi ogni tRNA passa dal sito A, dal sito P e dall'E. Il processo della traduzione serve per passare da una sequenza di nucleotidi, quindi l'mRNA, ad una sequenza di amminoacidi, quindi la proteina. Si parte da un'mRNA che viene letto in direzione 5'-3' grazie ai ribosomi. I tRNA hanno il compito di legare gli amminoacidi e di portarli nel sito di lavoro dei ribosomi. Nella loro struttura presentano una forma trifoglio, con un sito per legare l'amminoacido, e un'ansa più o meno intermedia che riconosce una tripletta complementare sull'mRNA. A ogni tripletta corrisponde un amminoacido, anche se in realtà un amminoacido può avere anche più di una tripletta corrispondente, e questa è la degenerazione del codice genetico. Il tRNA si lega all'mRNA riconoscendone le triplette, quindi si tratta di un'interazione fra basi, e così come quella tra le due eliche del DNA, è tenuta insieme da legami idrogeno. Il processo di traduzione si può suddividere in tre fasi, che sono la fase di inizio, la fase di continuazione, e la fase di terminazione. Durante la fase di inizio, la subunità minore del ribosoma ha il compito di trovare il codone AUG, dal quale cominciare la traduzione. Una volta che il codone AUG viene trovato, grazie alla presenza della sequenza di Kozak che lo deve precedere, in questo caso ovviamente stiamo parlando degli eucarioti, perché abbiamo la sequenza di Kozak, altrimenti sarebbe la sequenza di Schein dal Garno, una volta che la subunità minore trova il codone AUG, arriva la subunità maggiore, si ha l'unione delle due subunità e il processo di traduzione può cominciare. Quando anche la subunità maggiore si è posizionata, si formano i tre siti A, P ed E, e si può inserire il primo complesso amminoacido TRNA. In questo caso il primo amminoacido TRNA non entra dal sito A, ma direttamente dal sito P, mentre tutti gli altri entreranno dal sito A. Quindi abbiamo il posizionamento del primo complesso amminoacido TRNA nel sito P e non nel sito A. L'amminoacido in questo caso è sempre la metionina. Nella fase di continuazione, che è subito successiva, abbiamo il posizionamento del secondo complesso amminoacido TRNA che si inserisce nel sito A, accanto al complesso metionina TRNA. Grazie ad un sito catalitico che è presente nella subunità maggiore del ribosoma, la metionina viene staccata dal TRNA che la trasportava. Una volta che la metionina è stata staccata, viene legata all'amminoacido che era presente sul secondo TRNA. Per cui a questo punto abbiamo nel sito P il TRNA della metionina a scarico e nel sito A un TRNA con un dipeptide. Contemporaneamente il ribosoma scorre di una tripletta, per cui il complesso TRNA di peptide si trova adesso nel sito P, mentre il TRNA scarico nel sito E. Il TRNA scarico del sito E a questo punto può uscire. Invece il sito A, l'accettore, è libero e viene subito occupato da un terzo complesso amminoacido TRNA. Da qui in poi il processo continua a ripetersi uguale fino alla fine della traduzione. Ovvero vengono staccati i due amminoacini sul sito P e vengono legati al TRNA sul sito A. Abbiamo lo scorrimento del ribosoma e così via. La fase successiva a quella di continuazione è la fase di terminazione, che è l'ultima del processo di traduzione, e sia quando il ribosoma, che continua a scorrere sull'MRNA, incontra un codone di stop. Quindi UGA, UGG o UAA. A questo punto tutto il filamento proteico che si è costituito viene staccato dal TRNA, viene liberato nel citoplasma e si è al disassemblamento di tutto il complesso di traduzione, quindi dei ribosomi e dei TRNA. In realtà un filamento di mRNA non viene letto un'unica volta, ma diverse volte, anche contemporaneamente, a seconda della necessità della proteina. Queste due domande sono molto simili. Per rispondere ad entrambe ci basta sapere che la degenerazione del codice genetico consiste nel fatto che un singolo amminoacido può essere tradotto a partire da vari codoni, fino ad arrivare ad un massimo di tre. Quindi nel caso della domanda in alto, la risposta esatta è la B, ovvero la maggior parte degli amminoacidi è specificata da più di un codone, mentre per quanto riguarda la domanda in basso, la risposta esatta è la A. Un amminoacido può essere codificato da più codoni. Questa è una delle domande del test di ammissione dello scorso anno. Ci chiede di ragionare sul massimo numero possibile di legami idrogeno fra mRNA e TRNA in un ribosoma durante la traduzione. Noi sappiamo che contemporaneamente al ribosoma nel corso della traduzione possono essere legati due TRNA, perché il terzo, quello che si troverebbe nel sito E, si distacca dal ribosoma e ne fuoriesce. Per cui dobbiamo considerare i TRNA che si trovano nel sito A e nel sito P. Ogni TRNA si lega all'mRNA tramite una tripletta, quindi tramite tre basi. Secondo le regole di appaiamento delle basi, adenina e timina sono unite tra loro da due ponti idrogeno, mentre citosina e guanina sono unite tra loro da tre ponti idrogeno. Quindi considerando il caso in cui ci sono più legami idrogeno, quindi il massimo numero possibile di legami idrogeno, abbiamo ad esempio un codone CCC che si appaia con un codone GGG. In questo caso ogni coppia C-G, la C sull'mRNA e la G sul TRNA o viceversa, è tenuta appaiata da tre legami idrogeno, quindi abbiamo che ogni tripletta presenta nove legami idrogeno, tre per ogni coppia C-G. In totale abbiamo due triplette, una per ogni interazione mRNA-TRNA, per un totale di sei coppie di basi, e quindi sei per tre, diciotto legami idrogeno. La risposta esatta è la A. Questa domanda ci chiede di distinguere quali sono le affermazioni errate sui ribosomi. Partiamo dalla quinta affermazione, che possiamo dire essere esatta. Infatti sappiamo che il codone di inizio AUG viene riconosciuto dalla subunità minore e viene scelto in base alla presenza o meno della sequenza di COZAC negli eucarioti e della sequenza di Schein-Dalgarno nei prokarioti. La quarta affermazione, l'RNA catalizza la reazione peptidiltransferasica, è esatta, in quanto una porzione di RNA presente nella subunità maggiore è quella che catalizza la reazione che fa trasferire il peptide all'aminoacido presente sul TRNA del sito P. L'affermazione numero 3, il coefficiente di sedimentazione di ribosoma prokariotico è 90S, dove S sta per Svedberg, è sbagliata, in quanto sappiamo che il coefficiente di sedimentazione di ribosomi prokariotici eucariotici è di 70 Svedberg, mentre quello dei ribosomi eucariotici è 80 Svedberg, ancora quello dei mitoribosomi, quindi dei ribosomi mitocondriali, è 55S. Quindi sappiamo che la terza affermazione è errata. A questo punto possiamo già scaltare la A e la D tra le risposte, perché nessuna delle due afferma che la terza affermazione sia errata. Vediamo l'affermazione numero 2, la componente proteica è responsabile della struttura e dell'attività catalitica. Anche questa è sbagliata, perché noi sappiamo che i ribosomi sono composti prevalentemente da RNA. L'RNA è proprio la porzione che gli conferisce l'attività catalitica. Infatti i ribosomi sono detti ribozimi, appunto perché composti da acido ribonucleico, quindi ribo, con attività enzimatica, quindi zimi. Infine, la prima affermazione è esatta, infatti i ribosomi sono strutture composte per due terzi da RNA e per un terzo da proteine. Quindi vediamo che le uniche due risposte errate sono la 2 e la 3, quindi la risposta esatta è la C. Questa è una domanda che riguarda le interazioni codone e anticodone, quindi in particolare fra l'mRNA e il tRNA. L'mRNA in quanto presenta le triplette che sono poi associate ad un singolo aminoacido e il tRNA in quanto è il trasportatore dell'amminoacido stesso. Sappiamo che le interazioni codone e anticodone sono interazioni tra basi, così come quelle che avvengono tra le due eliche del DNA, quindi tra adenina e timina e fra citosina e guanina. Questo tipo di interazioni sono legami a idrogeno, per cui anche fra codone e anticodone ci sono legami a idrogeno. In questo caso la risposta esatta è la C. di un'unica di un'unica